Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, a non Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Celeste Immacolata, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne, per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cos'ospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del tuo volere divino e stretto dalla tua mano materna, guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazie a plena Domino Stecum, benedicta tui mulieribus e benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Avergirali 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 Madre mia, nel silenzio t'ho invocato, oh Maria, nel mio cuore ti ho trovato, stella bellissima, madre tenerissima, di poveri figli in cerca d'amore. Come un giglio tra i fiori, così pura tu sei, tu sei il sole al mattino, che risplende per noi. Sono dolci carezze, quelle che tu hai per me, ma non sono degno di te, oh dolce madre mia. Voglio cantare per te, la mia voce tra gli angeli, che lodano il tuo nome, che ti dicono così. Madre, voglio donarti la vita mia, perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima. Madre, voglio donarti la vita mia, perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima. 18, 27 gennaio 1919 e 4 maggio 2018. Poi verso notte sono ritornati Gesù e la regina mamma, chiamandomi per nome come se volessero che prestassi attenzione. Come era bello vedere la mamma e Gesù parlare insieme. La mia mamma celeste diceva, figlio mio, che fai? È troppo quello che vuoi fare, ho i diritti di madre e mi dolgo che i figli debbano tanto soffrire. Vuoi aprire il cielo ai flagelli e distruggere creature e gli alimenti che serviranno a nutrirli? E di mali contagiosi vuoi non darli? Come faranno? Tu dici di voler bene a questa mia figlia, quanto ne soffrirà se ciò farai? Per non amareggiarla, non lo farai. E lo tirava verso di me, ma Gesù rispondeva deciso, non posso. Molti mali distorgo per causa sua, ma tutto no. Mamma mia, facciamo passare il turbine dei mali affinché si arrendano. Figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore, vi sono tre che mi danno pene mortali e tale acerbità di dolore da sorpassare tutte le altre ferite insieme. Queste sono le pene delle anime amanti mie. Quando vedo un'anima tutta mia, soffrire per causa mia, torturata, conculcata, pronta a soffrire, anche la morte più dolorosa per me, io sento le sue pene come se fossero mie, forse più ancora. L'amore sa aprire squarci profondi, tanto da non far sentire le altre pene. In questa prima ferita entra per prima la mia cara mamma. Oh, come il suo cuore, trafitto per causa delle mie pene, traboccava nel mio e ne sentiva al vivo tutte le sue trafitture. E nel vederla morendo e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio rostrazio la crudezza del suo martirio e sentivo le pene della mia morte e che sentivo il cuore della mia cara mamma. E il mio cuore ne moriva insieme, sicché tutte le mie pene, unite insieme innanzi alle pene della mia mamma, sorpassavano tutto. Era giusto che la mia mamma celeste avesse il primo posto nel mio cuore, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amore mio apriva mare di grazie e di amore, che si riversavano nel suo cuore trafitto. In questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. Vedi, figlia mia, con che eccesso d'amore ha mai la creatura. La mia divinità fu gelosa di affidare alla creatura il compito della redenzione, facendomi soffrire la passione. La creatura era impotente a farmi morire tante volte per quante creature erano uscite e dovranno uscire alla luce del creato e per quanti peccati mortali avrebbero avuto la disgrazia di commettere. La divinità voleva vita per ciascuna vita di creatura e vita per ciascuna morte che col peccato mortale si dava. Chi poteva essere così potente su di me a darmi tante morti se non la mia divinità? Chi avrebbe avuto la forza, l'amore e la costanza di vedermi tante volte morire se non la mia divinità? La creatura si sarebbe stancata e venuta meno. E non ti credere che questo lavorio della mia divinità incominciò tardi, ma non appena fu compiuto il mio concepimento, fin nel seno della mia mamma, che molte volte era a giorno delle mie pene e restava martirizzata e sentiva la morte insieme con me. Sicché fin dal seno materno la mia divinità prese l'impegno di carnefici amoroso, ma perché amoroso più esigente ed inflessibile? Tanto che neppure una spina fu risparmiata all'amieggiamento umanità, né un chiodo, ma non come le spine, i chiodi o i flagelli che soffrirono la passione che mi dietero le creature, che non si moltiplicavano. Quanti me ne mettevano, tanti ne restavano. Invece quelli della mia divinità si moltiplicavano ad ogni offesa, sicché tante spine per quanti pensieri cattivi, tanti chiodi per quante opere indegne, tanti colpi per quanti piaceri, tante pene per quanta diversità di offese. Perciò erano mari di pene, spine, chiodi e colpi innumerevoli. Innanzi alla passione che mi diede la divinità, la passione che mi diedero le creature nell'ultimo dei miei giorni, non fu altro che ombra, immagine di ciò che mi fece soffrire la mia divinità nel corso della mia vita. Perciò amo tanto le anime, sono vite che mi costano, sono pene inconcepibili a mente creata. Perciò entra dentro della mia divinità e vedi e tocca con mano ciò che soffri. Bene, oggi questa meditazione è gara di venerdì, che è il giorno dedicato di corte alla contemplazione della passione di Gesù, peraltro oggi è anche il primo venerdì del mese e nel terzo di questi capitoletti che abbiamo letto Gesù riprende alla lettera una delle rivelazioni del Sacro Cuore, per cui avremo modo, certamente anche durante la meditazione, di volgersi verso questo adorabile mistero del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ora, andando con ordine, nel primo ritratto contempliamo la nostra regina mamma, come lui se la chiama, che invoca i diritti di madre sui figli sciagurati, quali noi siamo. Cioè la madonna è stata la prima, come madre, ad esercitare quell'ufficio che tante volte si vede poi essere esercitato, a modo suo ovviamente, nella forma adeguata a lei, da Luisa, di invocare misericordia, pazienza, longanimità, dilazione a volte, di pene e sofferenze da parte di Dio, nonostante il fiume di peccati. Ora, Gesù ha spiegato molto molto bene che quello che ha fatto per riparare i peccati è stato veramente qualcosa di inimmaginabile a mente umana e bene faremmo a meditarlo un po'. Però c'è sempre quel famoso problema, nel senso che quello che Gesù ha fatto, che è in atto e a pubblica disposizione di tutti, deve essere preso dalle persone. Questo argomento del prendere gli atti non è solo diciamo esclusivo della vita nella Divina Volontà. Noi sappiamo che un'operazione fondamentale interiore della vita nella Divina Volontà è appunto fare nostri, prendere tutti gli atti compiuti dalle umanità santissime di Gesù e di Maria che hanno rifatto tutto quello che noi abbiamo fatto di imperfetto o omesso o di non buono e hanno distrutto e rifatto tutto quello che noi abbiamo fatto di sbagliato e di male. quindi questo è un... se non si compie quest'operazione tutto quello che Gesù e Maria hanno fatto per noi e che comunque fa piovere su di noi in parte minimale certamente se non c'è una cooperazione della creatura le grazie che queste operazioni hanno prodotto rimane lì è come se uno avesse un conto in banca intestato e non lo andasse a... non usasse quei soldi non andasse a prendere la stessa cosa ora questo vale anche però nel fiat redimente tutto quello che Gesù ha operato per la nostra retenzione che adesso ci arriveremo spiega bene nel terzo capitolo rimane inattivo se la persona non si converte e cosa vuol dire convertirsi? convertirsi significa come il peccato è l'aversio Deo et conversio ad creaturas così dicevano i padri classici quindi allontanamento da Dio e conversione alle creature quindi l'anima lascia il creatore e comincia a cercare la vita nelle creature succhiandole in maniera disordinata questo è in due parole il peccato la conversione è un processo contrario è aversio a creaturis et conversio ad Deum quindi lasciare le creature e rivolgersi tornare a Dio ora Gesù lo spiega in altre in vari parti degli scritti ma questo è l'hanno già chiaramente spiegato ordinariamente il primo modo con cui fa questo è tirare l'uomo con la misericordia con la bontà con l'amore che è quello preferito da Gesù e da Maria anzi se dipendesse da loro non ce ne sarebbe altro è solo che nella divina sapienza e onniscienza Dio vede che se rimangono ostinatamente disattesi i richiami dell'amore e gli inviti della misericordia l'uomo si dannerà ogni tanto bisogna pensarsi a questo oscuro mistero della dannazione che è purtroppo il drammatico attestato della vera nostra libertà e allora tenta dopo aver dice aggiunto nel Vangelo suonato il flauto in tono al lamento questi sono le pene e i cosiddetti flagelli o le altre terminologie bibliche che si usano in maniera un pochino antropomorfizzata sperando che almeno provato nel dolore l'uomo ritorni a Dio a lui ma non perché a Dio come dire tra virgolette gli importi secondo il nostro modo certamente egoisticamente qualcosa ma per il bene dell'uomo per cercare di fare il possibile San Paolo scrive mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno e e questo è il motivo certo la Madonna esercita questo ufficio materno cerca se possibile proprio perché mamma e ha un amore tenerissimo questo lo diceva San Luigi Maria un forte no dice sì Gesù è tutto misericordia d'accordo questo è ovvio no e ma Gesù è anche Dio quindi c'è la sua divinità ci sono anche le esigenze della sua giustizia nella sua persona invece la Madonna è piena di grazie ma non è una Dea ed è donna ed è mamma quindi nel suo cuore c'è tutta misericordia anche lei insomma certamente riconosce le esigenze della divina giustizia ma cerca di procrastinarle e di dilazionare il più possibile non dobbiamo sempre immaginare una Madonna che davanti al trono di Dio dice aspetta ci penso io mandami fammi provare a me e quello che vediamo insomma negli ultimi due secoli lo attesta insomma chiarissimamente la Madonna sta facendo il possibile per scuotere e andare incontro e tirare fuori dai guai un'umanità sempre più in larga parte largamente decaduta ecco per certi versi proprio corrotta degradata completamente veramente perso ogni senso di sacro di santità insomma di di fede di morale eccetera questo è il primo punto il secondo punto ci mostra un grande mistero il mistero della cooperazione da parte delle anime che Gesù sceglie al suo mistero di dolore sofferto ed offerto per amore per la salvezza del mondo e Gesù spiega come veder soffrire le anime le anime che lo amano è una ferita per lui dolorosissima nel senso che sorpassa tutte le altre ferite messe insieme ferita causata dall'amore come lui dice sapere squarci più profondi e fa l'esempio della madonna perché la madonna era presente alla passione di Gesù noi certamente pensiamo sempre e dobbiamo pensare in questo senso al mistero della corredenzione quindi la madonna vedere quell'orrore che ha visto e che ha distrutto insomma il suo cuore immacolato dandogli il titolo di cuore addolorato che è quasi più grande per la violenza e l'intensità di quello di immacolato e questo più o meno le anime amanti e devote ci arrivano e la madonna addolorata va compatita sappiamo oggi è venerdì in un'apparizione riconosciuta dalla chiesa in Africa a Kibeo la madonna ha chiesto proprio il martedì e il venerdì che sono tra l'altro i due giorni in cui la chiesa nel santo rosario contempla i misteri dolorosi quando lo si si limita la sua recita ai misteri del giorno comunque il venerdì è il giorno di amore della passione chiese di recitare la corona dell'addolorata secondo le sue intenzioni per la conversione dei peccatori quindi contemplare insieme alle pene di Gesù le pene di Maria Santissima però c'è un altro aspetto che per Gesù stesso vedere queste sofferenze delle sue anime quindi vedere la madonna che stava morendo di dolore e vede della croce ha enormemente aumentato il suo personale strazio strazio e crudezza trafiggendo il suo cuore ecco e quindi aprendo questa ferita nuova nelle sofferenze di Gesù quindi le sofferenze delle anime amanti la prima chiaramente è stata la sua madre e Gesù spiega in questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore ora noi figli di Dio abbiamo una santa teologia della sofferenza che è anche la redenzione del mistero della sofferenza dobbiamo sempre ricordare una cosa la quasi totalità degli uomini soffre enormemente ma di sofferenze che non hanno nessun merito nessuna buona motivazione e che potrebbero e dovrebbero essere tranquillamente risparmiate perché non sono sofferenze di volontà di Dio se non nel senso di volontà permissiva quali sono queste sofferenze sono le sofferenze dovute semplicemente alla volontà umana nel testo la Vergine Maria nel regno della divina volontà la Madonna spiega benissimo che chi vive di volontà umana si auto mette in croce ma mettersi in croce malamente si soffre pene atroci il peggiore dei martiri dice proprio così senza che però ne abbia alcun merito e alcuna come dire santificazione cioè quando uno soffre per volontà divina cioè qual è la sofferenza per volontà di Dio lo spiega qua subito Gesù per causa mia ricordiamo le parole del Vangelo non beati voi quando sarete maltrattati perseguiti per causa mia del Vangelo o per solo amore amore di Dio e amore delle animi queste sono le sofferenze santi ma tutte le altre sofferenze e gli uomini sono proprio maestri a fare della terra un'anticamera dell'inferno perché le sofferenze stanno pure all'inferno i tormenti dei dannati ma quelle non sono certamente sofferenze santi allora Gesù è venuto a evangelizzare la sofferenza a santificare la sofferenza e a insegnarci a santificarla perché la sofferenza è di per sé stessa tutto il mistero del filo a tre di mente conseguenza del peccato l'unico modo per santificarla è assumerla accoglierla o anche sceglierla ma per amore di Gesù e per amore delle animi non ci sono altre forme di sofferenza sante le persone che passano la vita a piangersi addosso o a lamentarsi quando si soffrono ti fanno una pena incredibile ma quella non ha certamente sofferenza sante si entra in questa ferita di Gesù e si concorre quindi attraverso questo squarcio aperto nel suo cuore alla redenzione veramente quando si soffre per causa di Gesù e per suo amore per esempio piangere sulla passione di Gesù è sofferenza santissima piangere sulla sulla passione di Maria è sofferenza santissima piangere sui propri peccati è sofferenza santissima piangere sui peccati del mondo è sofferenza santissima offrire una mortificazione con buone intenzioni una penitenza è sofferenza santissima accettare con amore le sofferenze le croci che Dio ci manda quotidianamente piccoli o grandi che siano è sofferenza santissima così come accettare i rivetti degli altri i nostri ma queste sono sofferenze di divina volontà stiamo lontani da quelle dalle cosiddette sofferenze che vengono dall'umana volontà e poi chiudiamo con un riferimento accennavamo al primo venerdì del mese Gesù ha detto che le sue sofferenze sono iniziate al momento stesso del concepimento da quando la divina Maria disse fiat e ci ricorda che lei stessa molte volte assisteva a queste operazioni divine che avvenivano nell'umanità santissima di Gesù rimanendone come dire sterrefatta e anche lei anche in questo piena di dolori il discorso che fa Gesù è stupendo cioè lui doveva lui doveva riparare ogni singolo peccato di ogni singola creatura la divinità voleva vita per ciascuna vita di creatura e vita per ciascuna morte del col peccato mortale si dava cioè tutto quello che Gesù ha passato durante la passione sensibile non è assolutamente sufficiente per fare un'operazione di questo genere questo è quello che sta dicendo Gesù e allora che cosa ci rivela cosa ci dice però questo Gesù quando rivela al Sacro Cuore disse a Santa Margherita ma lo disse anche prima a Santa Teresa che fin dall'istante in cui quel cuore fu concepito cominciò a soffrire tant'è vero che il cuore sagratissimo di Gesù è sormontato da una croce qui ci viene la luce su come ha sofferto e perché la divinità incessantemente stava affliggendo la sua umanità con chiodi per opere cattive con spine per pensieri cattivi con colpi di flagello e di altro per tutti quanti i piaceri bestiali che gli uomini si concedono fuori dalla legge di Dio immaginiamo cosa possa significare una cosa di questo genere dal concepimento fino a la morte fino a 33 anni nessuno penso che possa minimamente sondare questo immenso mistero più che sondarlo dobbiamo contemplarlo e riempire il nostro cuore di di gratitudine e non dimenticare la compassione di Maria Santissima che assisteva quando Gesù lo permetteva e lo voleva a queste divine operazioni ecco con questo spirito viviamo bene questo giorno dedicato alla passione di Gesù e al ricordo di quel cuore che ha tanto amato il mondo in questa forma che noi abbiamo contemplato quindi una passione e una sofferenza tanto grande che la passione che dietro a Gesù le creature nell'ultimo dei suoi giorni non fu altro che ombra immagine di ciò che mi fece soffrire la mia divinità nel corso della mia vita sono temi che per chi poi prega ordinariamente le ore della passione sono familiari perché Gesù in quel contesto molto bene spiega questo punto e come diciamo lo Stabber Mater che le piaghe del Signore siano sempre impresse nei nostri cuori e formi un oggetto dei nostri pensieri e il luogo del nostro rifugio lo Santo Vergine Divina Maria noi ti ringraziamo per tutto quello che hai voluto compatire per noi ti ringraziamo per il tuo ufficio di madre di misericordia di bontà e di compassione il tuo cuore di di madre che sente fortissimo la missione che Gesù ti ha affidato di essere madre di tutti e di ciascuno tocchi i cuori e li riporti a Gesù e aiuti anche ciascuno di noi a soffrire non per e di volontà umana ma nella e per la divina volontà perché da questa realtà generata soltanto da noi e che Gesù Volutore dimere possano sgorgare non frutti di morte e di disperazione ma frutti di conversione di santità e di vite eterna nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo ame ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo Amo